Ciao a tutti, tutti gli uomini infedeli hanno questo in comune. In questo video voglio spiegarti quali sono le caratteristiche che hanno in comune tutti gli uomini infedeli. Magari non tutte, quelle che andrò a elencare e andrò a discutere, ma qualcuna sì, comunque almeno una ce l'hanno. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento. Abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminari dal vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. E adesso veniamo al tema, tutti gli uomini infedeli hanno questo in comune. Allora, che cosa hanno in comune gli uomini infedeli? Beh, la prima cosa fondamentale che hanno tutti gli uomini infedeli è quella che negano l'evidenza e danno sempre la colpa a te. Quando, diciamo, cerchi di sgamarli in qualche modo, negano, negano l'evidenza e in qualche modo danno la colpa a te che interpreti male, che sei pure li trovassi a letto, diciamo, con una e dire darebbero la colpa a te che sei maliziosa, che vedi le cose dove non ci sono. E questa è una caratteristica, è una caratteristica, diciamo, anche talvolta della fantasia, perché per essere infedeli, diciamo, io parlo di uomini infedeli che sono, diciamo così, infedeli seriali, non quello che magari vi capita per un'occasione, perché può anche succedere che in un rapporto di coppia ci sia un momento, insomma, in cui ci può essere una, come dire, una scappatella, tra virgolette, no? È normale che possa accadere, siamo esseri umani. Ma invece ci sono uomini che sono infedeli, nei secoli infedeli, potremmo dire, anziché come l'arma dei carabinieri che è nei secoli fedele, e loro sono nei secoli infedeli. E quindi lo fanno costantemente. Per cui questa è una caratteristica fondamentale. Ti danno sempre la colpa. E trovano, diciamo, una visione alternativa. Infatti la seconda caratteristica degli uomini infedeli, che talvolta si abbina alla prima, ripeto, talvolta è, diciamo, isolata, è che hanno un'altra cosa interessante, che riguarda che hanno sempre una scusa. Una scusa buona per, diciamo, magari non farsi trovare. Può essere il lavoro, può essere che ti dicono dello stress, può essere che ti dicono che sono stanchi, può essere che ti dicono che hanno qualche cosa, ma trovano sempre delle scuse per svicolare in qualche modo. Quindi dipende poi dal tipo di relazione che tu hai. Però diciamo che hanno sempre delle scuse pronte per consumare la propria infedeltà, diciamo. E hanno anche delle scuse pronte qualora tu li cercassi per dirti perché non si sono trovati, perché magari non erano lì dove tu pensavi che fossero. Insomma, hanno le scuse sempre pronte. Però c'è una cosa che spesso hanno gli uomini infedeli, che talvolta sono incoerenti, cioè fanno dei discorsi incoerenti in cui le date, i luoghi, le persone non si incrociano. E quindi se tu vuoi sgammare un uomo infedele, basta che fai domande generiche in momenti diversi, potresti ottenere risposte diverse, potresti ottenere date diverse, potresti ottenere personaggi diversi, perché ovviamente l'infedele, certo, avrà il suo database, diciamo, di tutte le cose che deve dire, ma spesso, siccome proprio è un qualcosa di infedeltà, le corna che ti fa sono un qualcosa di sistematico, come fai tutte le cose che vengono fatte, diciamo, la prima volta presti attenzione 100, la seconda 99, poi man mano che vai avanti lo fai in modo automatico, quindi ti dimentichi delle cose, alcune cose non escono fuori, insomma, per cui ci sono tutte queste caratteristiche che appunto gli uomini infedeli hanno, insomma. E un'altra caratteristica tipica degli uomini infedeli è la quarta, ed è importante questa, tenerlo presente, è che sono ipergelosi, cioè, come dire, sono ipergelosi e cercano di denigrarti in qualche modo. Diciamo che l'ipergelosia talvolta è, diciamo, è fatta apposta per smascherare, cioè è meglio attaccare che difendersi, quindi viene utilizzata in due modi, un po' come arma strategica perché io ti attacco sul fatto che sono geloso, sul fatto che tu mi tradisci per, come dire, buttarti fumo negli occhi, no? E quindi tu sei impegnato a difenderti e non vedi quello che succede. Quindi questa è una strategia utilizzata apposta. Talvolta sono ipergelosi veramente, cioè manifestano veramente questa ipergelosia. E perché la manifestano? Beh, perché è evidente, no? Che, come dire, che ha il sospetto, ha il difetto. Quindi questo dobbiamo dirlo. Se uno sospetta di qualcosa, perché probabilmente quella cosa a dire la fa pure lui, è chi non è omnia, munda, mundis, chi è puro, vede il mondo puro. Quindi occhio agli uomini ipergelosi, ipercontrollanti, perché è sicuramente al 90% sinonimo di corna per te. Sia nel caso in cui lo facciano per buttarti fumo negli occhi e quindi depistarti, sia nel caso in cui lo facciano, siano veramente ipergelosi, ma proprio perché, essendo loro traditori, temono, proiettando, che anche tu possa tradire. E un'altra caratteristica che spesso accade negli uomini infedeli, diciamo, è che cercano il litigio quando vogliono tradire, per allontanarsi. Cioè, quando hanno qualche storia, magari un pelo più serio, fanno un po' di push and pull, cercando il litigio, perché il litigio così li consente, basta, me ne vado, si allontanano, e hanno occasione di fare quello che gli fa piacere, poi tornano, ovviamente. Quindi, questa strategia del push and pull litigando prima è una caratteristica, è un'altra strategia, diciamo, utilizzata più frequentemente di quanto puoi pensare. Ecco, quindi questa è una caratteristica molto importante che ti può far capire su un uomo infedele. Ora, quindi tutti gli uomini infedeli hanno queste in comune, queste caratteristiche. Non è detto che ci siano tutte e cinque, ma almeno una c'è. Poi, magari ce ne sono anche più di una. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonando ti potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento. Abbonamento base e collezioni mirate. Abbonamento top, collezioni mirate e video registrazioni, seminari del vivo, abbonamento master consulting, con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti!